Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, oggi vi porto un video che mai avrei pensato di realizzare non dico nella mia carriera ma nella mia vita, perché vi porto il tutorial dell'elastico e del reverse elastico una cosa di cui probabilmente mesi fa avrei riso, perché io skill si le utilizzo ma ho sempre usato quelle un po' più base visto che quest'anno il gameplay invece richiede una maggiore imprevedibilità ho deciso di implementare queste due skill che ritengo a questo punto del gioco ormai fondamentali e non mi spaventa neanche quello che è il nerf dell'elastico che ci sarà a breve visto che comunque il primo elastico rimane devastante, mentre viene nerfato e rallentato più che altro il secondo elastico e gli elastici concatenati in genere quindi vi porto questo tutorial e avremo due scenari primo scenario, andiamo in game su PS4, vi faccio vedere con pad da schermo come si esegue la skill dopodiché passiamo su Xbox, vi porto quelle che sono delle clip estratte direttamente dalle live per farvi vedere contro un avversario umano quello che vi sono andato a spiegare perché adesso infatti ci troviamo in squad battles e vi farò vedere quelli che sono gli scenari per andare ad utilizzare l'elastico in entrambe le metà di campo e capire effettivamente quando e come andarlo ad utilizzare quindi con un rapido cambio di scena, diventato pulitissimo grazie all'elgato stream deck fornito da Elgato e da Exceed grazie mille andiamo immediatamente a vedere quindi ci troviamo sul lato destro del campo quindi stiamo andando ad attaccare da sinistra verso destra l'elastico a cosa ci serve? ci serve per cercare di accentrarci ma questo è anche il reverse elastico quindi quando lo andiamo ad utilizzare? esattamente quando ci troviamo in questa porzione di campo ossia quando abbiamo il giocatore che punta l'area avversaria e sta correndo in obliquo quindi cosa dobbiamo fare per fare l'elastico? semplicissimo una mezzaluna di 180 gradi che parte dalla spalla sinistra del giocatore e arriva chiaramente a quella opposta quindi eccoci qua Joe Felix punta mezzaluna ed eccolo qua se continuate a girare l'analogico fate i cosiddetti elastici concatenati senza bisogno di dover rifare la mezzaluna quindi molto più semplice regà di quello che sembra non è nulla di trascendentale vi assicuro che se l'ho imparato io lo potete imparare pure voi un altro scenario quando attacchiamo da sinistra verso destra nel quale vado a utilizzarlo è questo qui ossia la posizione la porzione di campo diciamo del limite destro dell'area di rigore per prendere campo verso l'esterno e servire al centro eccoci qua stavolta facciamo una mezzaluna a partire dalla spalla destra di 180 gradi che passa dietro al giocatore e arriva sulla sinistra guardate il pad olè facilissimo di una banalità unica e vedete che il giocatore si accentra e magari qui può prendere campo non lo so per servire un compagno che arriva oppure la potete concatenare non lo so con una devita flick come la chiamiamo noi e insomma riuscire agilmente a accentrarvi e andare in porta per quanto riguarda invece il reverso elastico sempre per la porzione di campo da sinistra verso destra stesso discorso serve per accentrarci quando utilizziamo il reverso elastico quando non possiamo fare l'elastico perché vedete qui se faccio l'elastico vado verso fuori non vado verso dentro quindi per andare verso dentro facciamo il reverso e come si fa il reverso elastico? appunto bisogna fare il movimento opposto a quello che fareste per formare l'elastico quindi a partire da diciamo la posizione davanti ossia la linea retta al giocatore fate un movimento che parte dalla testa del giocatore e una mezzaluna ai 180 gradi che passa dietro al braccio sinistro e arriva dietro guardate qui olè facilissimo vi accentrate questo qua potete anche concatenare un paio perché non verrà nerfato guardate qui che comodità vi accentrate ecco potete rapidamente concludere in porta in maniera molto facile potete fare anche poi ovviamente quello che è l'elastico frontale stessa cosa aspettate perché l'elastico frontale ogni volta ho seri problemi eccolo qua semplicissimo per fare l'elastico questo qui dovete fare una mezzaluna mirando in basso vedete così in basso e poi voilà easy voilà se vi ripeto ragazzi ho imparato io potete farcela anche voi andiamo a vedere invece l'elastico dall'altro lato dall'altro lato che cosa dovete fare per fare quello frontale freccia non più verso giù ma verso su e mezzaluna che va all'indietro così in questo lato del campo l'elastico io solitamente lo utilizzo solamente in questa porzione di campo qui che vi ho fatto vedere prima quindi mezzaluna di 180 gradi da destra che va dietro al giocatore e arriva sul braccio sinistro eccola qua basta che guardate il pad come si muove semplicissimo quello che uso maggiormente da questo lato per accentrarmi invece è il reverse elastico in particolare quando mi trovo in questa porzione di campo e vado a usare il reverse per fare doppiamente così e tirare in porta beh chiaramente qui la spazzata perché ero verso la mia di porta e non verso la porta avversaria comunque questi sono gli scenari nei quali io vado a consigliare l'utilizzo dell'elastico e del reverse elastico vi ripeto io ero veramente un bot cioè già il pensiero di dover capire quando andare effettivamente a cambiare l'angolazione eccetera 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 per me è stata una bella sfida ma vi ripeto se ho imparato io potete imparare tutti e al momento io vi vado a mettere quelle che sono alcune clip che ho registrato direttamente dalle mie live in maniera tale che vedete in game come va a workare l'utilizzo di queste due skill e nulla poi ci rivediamo per i saluti post post video modi quella era evitabile il gol che ho fatto con Bappé aveva fatto un elastico sì il reverse elastico questo ho ben come fai a non segnare vabbè Bappé che ti devo regà per questo video è tutto avete visto veramente molto facile lineare sia l'elastico che il reverse elastico dovete prendere un po' di padronanza regà io non vi nascondo guardate come ho imparato foglio elastico reverse e mi sono segnato come farlo così lo tengo sempre davanti ormai l'ho masterato ma qualora mi viene un minimo dubbio butto l'occhio e voilà e me lo tengo davanti non è una sciocchezza perché regà bisogna imparare nella vita da qualche parte si deve partire no e tanta gente fa così non credete che io sia pazzo quindi nulla regà vi consiglio di mettervi squad battles a difficoltà bassa provare provare riprovare mi raccomando lasciate un like a questo tutorial commentate cose da youtuber che mi servono e nulla vi do appuntamento lo sapete ogni giorno in live dalle 10 alle 16 circa vi auguro una buona giornata ciao ciao